Parenti, amici, rappresentanti del mondo del calcio piacentino e tantissime vecchie glorie del Piacenza Calcio hanno salutato oggi per l'ultima volta, nella chiesa parrocchiale di Podenzano, lo storico dirigente biancorosso Gianni Rubini, scomparso giovedì per un improvviso e fatale malore. In prima linea, tanti ex del mitico piace dell'era Garilli come Gigi Cagni, Antonio De Vitis, Francesco Turrini, Daniele Moretti e tanti altri, stretti, intorno alla famiglia per un saluto commosso e sincero. Presente al gran completo anche il Piacenza Calcio di oggi, con in testa il presidente Stefano Gatti. Sul feretro, accompagnato all'uscita dalla chiesa da un mare di cori da parte di numerosi tifosi biancorossi, sono state poste sciarpe del Piacenza e della Fiorentina, le due squadre del cuore di Rubini. Molto emozionante anche il passaggio del corteo funebre davanti al campo sportivo di Podenzano, dove i bambini, che Gianni ha allenato con passione e dedizione fino all'ultimo, si sono disposti sui lati della carreggiata, per tributargli l'ultimo applauso. Ieri, invece, il Consiglio Comunale di Podenzano, all'unanimità, ha votato la proposta di intitolare a Rubini l'impianto insintetico sorto pochi anni fa e che ospita le squadre giovanili del club locale, un campo dove, negli ultimi tempi, Rubini ricopriva il ruolo di allenatore di una formazione di ragazzini. Grazie. 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 Grazie.